Si è reso necessario il trasferimento in ospedale per un sedicenne del posto che in piena notte avrebbe perso il controllo del mezzo sulla strada che porta da Pacentro a passo San Leonardo. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che il giovanissimo si trova a bordo della sua Apecar quando per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sulmona. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e per agevolare l'estrazione dall'abitacolo del giovanissimo. Lo stesso è stato trasportato a pronto soccorso dell'ospedale cittadino con ambulanza del 118. Le sue condizioni fortunatamente sono buone anche se avrebbe riportato alcune ferite per cui i medici stanno procedendo con l'applicazione di alcuni punti di sutura. Non trova pace il semaforo di Porta Sant'Antonio. Da alcuni giorni l'impianto risulta lampeggiante con ovvie ripercussioni sulla circolazione e la sicurezza stradale. La prossima settimana infatti i tecnici lavoreranno al riassetto dell'impianto tenendo conto dei flussi veicolari, della circonvallazione e delle strade laterali, via Le Patini e via D'Eramo. È stato calcolato che finora il rosso è scattato per ben 120 secondi, due minuti che sono un tempo lungo per un semaforo, provocando non solo fastidio comprensibile agli automobilisti ma anche code lunghissime. Emblematico a riguardo è stato in questi giorni il caso delle code di auto formatesi lungo via Le Patini, in orari di punta arrivate fin quasi alla fine della strada, ai confini con l'incrocio di via stazione, intro d'acqua. Un paradosso al quale adesso finalmente è sempre giunto il momento di porre rimedio. A sollecitare interventi erano stati nelle scorse settimane i residenti della zona attraverso una petizione attraverso la quale si chiedeva di rimettere mano alla sincronizzazione degli impianti. Sul caso anche il nostro video è diventato virale. Due anni e sei mesi di reclusione, risarcimento alle parti civili, rifusione delle spese di lite e questa è la pena combinata dalla Corte d'Appello dell'Aquila all'ex vice sindaco di Roccaraso Alessandro Amicone per la calunnia riguardante i mondiali juniors di scia alpino che si sono svolti a Roccaraso nel gennaio 2012. I giudici Aquilani hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa alla tribunale di Sulmona il 14 ottobre dello scorso anno abbonando sei mesi di pena all'imputato. Sotto processo erano finiti anche l'ex governatore del Lazio Francesco Storace all'epoca dei fatti direttore responsabile del Giornale d'Italia e il giornalista Federico Colossimo autore di alcuni articoli sull'argomento ovvero sulla gestione dei 12 milioni di euro a disposizione del Comune per l'organizzazione dei campionati. Entrambi sono stati assolti dall'accusa di diffamazione Amicone invece è finito sotto la lente della magistratura per il reato di calunnia per aver cioè depositato davanti all'autorità giudiziaria alcuni esposti ritenuti dalle parti civili i legittimi arbitrari sulla gestione dei mondiali da scia. Secondo il castello accusatorio sarebbero stati lesi l'onore e prestigio dell'imprenditore Mauro del Castello, amministratore della società Siffat Luca Colecchi e Felice Colecchi rappresentanti della Pizzalto S.P.A. il sindaco di Roccaraso Francesco Ridonato nonché i consiglieri comunali Patrizia Olivieri Domenico Cordisco. Nell'esposto l'ex vice sindaco faceva riferimento agli appalti alla fornitura di carburanti, alla realizzazione di un tunnel, all'utilizzo di motoslitte. Una semplice segnalazione di presunte anomalie per la difesa dell'imputato mentre per il tribunale la corte d'appello si tratta di calunnia da qui la condanna rimodulata ma non evitata. Spesati, disorientati, in difficoltà, disavventura per un gruppo di cinque ragazzi spagnoli che l'altro giorno, dopo la vacanza Erasmus, sono rimasti bloccati nella centralissima piazza Garibaldi di Sulmona per aver perso il treno diretto da Vezzano. Scesa ormai la sera, hanno tentato in vano di contattare taxi pubblici e privati autoline di autobus, perfino i carabinieri, a fine di trovare un modo per proseguire il viaggio. Nessun mezzo a disposizione nella città del turismo, come denuncia una coppia sulmonese che ha incrociato i giovanissimi e si è fatta carico della loro situazione. Dopo un'ora e mezza di telefonate, sulmonese hanno trovato un albergo per il pernottamento. È il caso di mettere in rete l'offerta del trasporto tra pubblico e privato perché una città che vuole offrire accoglienza non si può bloccare dopo le venti, osserva ancora la coppia. I giovanissimi sono stati comunque presi in carico dagli angeli custodi, ma la vicenda assomiglia alla storia del turista australiano settantenne che nei giorni scorsi dalla stazione ferroviaria si è fatto tre chilometri a piedi sotto la pioggia con il bagaglio tra le mani, essendo stato cancellato il bus. Per questo episodio il comune si è scusato ufficialmente con il sulmonese di adozione e con la sua consorte. Entrambi sono stati ricevuti a Palazzo San Francesco, accompagnati da Gabriella Di Mattia, dal sindaco Gianfranco Di Piero, dall'assessore Attilio D'Andrea e dalla consigliera comunale Teresa Nannarone. L'impegno assunto dal comune è quello di istituire un bus in prima serata che colleghi la stazione al centro, cosa non facile vista la carenza di mezzi e risorse umane. Inoltre si cercherà di trattare con i privati per collegare la città al casello autostradale e ancora, operazione non di poco conto, si sta facendo una ricognizione delle licenze taxi. Sarebbero nove quelle rilasciate negli anni a fronte di un solo tassista a disposizione. Abbiamo sollecitato le carte, commentano dal comune. Le scuse rappresentano un cesto di garbo istituzionale, tutt'altro che scontato, sicuramente apprezzato. Tuttavia è necessario passare i fatti tenendo conto dell'assenza della famosa bacchetta magica. Un progetto di formazione in lingua italiana per i profughi ucraini, ospiti nell'hotel Manhattan. L'iniziativa è dei maestri cattolici italiani che non si sono tirati indietro di fronte allo scenario di guerra, attivandosi prontamente per dare un supporto a quanti sono riusciti a scampare dalle bombe. Il presidente regionale dell'associazione, nonché già dirigente scolastico dell'istituto Radice Ovidio, Nea di Anni, d'intesa con il vescovo di Ocesano, Monsignor Michele Fusco, ha promosso con i suoi collaboratori l'attivazione di un progetto di formazione in lingua italiana assolutamente gratuito, riservato agli ucraini adulti per facilitare il loro inserimento e i loro rapporti con la comunità locale. Il progetto ha preso il via da mercoledì 6 luglio, con incontri in orario antimeridiano tenuti nelle giornate da lunedì al venerdì compreso fino al 5 agosto. Con spirito di autentica solidarietà umana, l'equip docente e tutti insegnanti soci AIMC ha volontariamente sottratto tempo alle proprie vacanze per impegnare la propria professionalità a beneficio di chi si è venuto a trovare improvvisamente in una situazione di bisogno lontano dalla propria terra, fanno sapere i maestri cattolici. Contestualmente si è dato sostegno anche più piccoli, aprendo, sempre gratuitamente, l'accesso al campo estivo della cittadella delle arti, favorendo momenti di socializzazione per gli adulti attraverso la danza, in due momenti settimanali, di pomeriggio e gratuiti, perché l'associazione è anche e soprattutto questo. Quante minuta una cicala? Tanto, tanto da ingannare un groviglio di sguardi umani. L'altra sera, approdato al mio consueto lavoro, trovai i miei amici, nonché seriali clienti serali, con le orecchie tese verso il canto di una cicala. Ricurvi tra il bancone del bar e il frigorifero sembravano impazienti di scovare l'insetto e, soprattutto, il suo incessante lamento. Nell'ambito delle attività del parco letterario Ovidio, nel cortile del palazzo dell'Annunziata, è stato presentato il romanzo Caro Naso, di Daniele Massimo Antonio. Si tratta di un'opera di narrativa orbitante attorno alla figura di Ovidio, edito da scatole parlanti, impreziosito dalle illustrazioni acquerellate del maestro Pino Procopio, alcune delle quali sono state esposte nel corso dell'evento, proprio nel cortile dell'Annunziata. Hanno dialogato con l'autore, Alessandro Benjivenga, referente scientifico del parco letterario Ovidio, e Sabrina Cardone, docente di lettere e musicologia. Il tutto allietato con intermezzi musicali di Cecilia Bonaventura, studentessa del liceo classico Ovidio. Presente sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Belle fanciulle profumate, e ma alla loro non curanza e ingratitudine illimitata, con il sangue furono posti i limiti. Colte da furor amazzonico, le spose ripudiate e sostituite, trucidarono nella notte i mariti d'un tempo e le novelle spose, e, assieme a essi, tutti i maschi dell'isola. Sunmi, semidei, sullustica nomine l'infe, faunitul satiritul, et monticole silvane. Nei suoi versi, Ovidio rivela spesso al lettore il proprio nome, o meglio, il cognomen, detto in latino. Vale a dire naso, Nel caso genitivo, Nasonis, quindi Publius Ovidius Nasonis. Caro naso, dunque, è da identersi quale dichiarazione di affetto e di profonda gratitudine nei confronti del celebre poeta, ma vuole essere anche un invito alla riscoperta, in chiave originale e contemporanea, di un grande classico. Eh beh, si sa, i classici non muoiono mai. Ovidio vive, ha semplicemente mutato forma nel corso dei secoli, così naturalmente le ultime metamorfosi. Il libro vuole dimostrare che seppur all'interno di un corpo diverso, Ovidio vive e che dopo duemila anni lo si può ancora scovare. Beh, basta saperlo cercare. Daniele di Massimo Antonio, nasce a Giulia Nova, si laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Gabriele D'Annunzio di Chiedi Pescara, è un docente, scrive testi teatrali. Abbiamo anche scoperto, tra l'altro, ha una notevole capacità di recitazione. Padri, fratelli e figli. Nonostante il tremendo crimine commesso, il rancore non sembrava mutar forma e le lemniadi continuavano a notire sentimenti profondamente ostili agli uomini. Come nasce l'idea di scrivere un romanzo, perché il suo è un romanzo, che ruota intorno ad Ovidio, magari visto in chiave moderna o contemporanea? È così? È così. Intanto un saluto a tutti gli spettatori di Onda TV. Sì, nasce appunto come storia delle metamorfosi, ma non intendo il titolo del celebre libro, quanto piuttosto la storia delle trasformazioni del poeta, di Publio Ovidio Nasone, caro naso appunto. E ho immaginato che, nell'arco di questi duemila anni, lui possa aver cambiato molte volte forma. Dobbiamo parlare un momento della trama di questo romanzo, sia pure velocemente. Sì. Dunque, in realtà è proprio questo. Ogni capitolo è una continua trasformazione. Quindi è come, per dirla con Pitagora, con il Pitagora del quindicesimo libro delle metamorfosi, è una continua metempsicosi, per cui Ovidio, lo spirito di Ovidio, in ogni capitolo cambia forma e si spinge fino ai nostri giorni. Quindi è proprio questo. È una ricerca, è come se fosse una, come posso dire, una caccia al tesoro letteraria. E Ovidio alla fine lo troviamo in realtà dentro le nostre anime, dentro ciascuno di noi. Questa manifestazione specifica viene promossa iniziativa del Parco Letterario Ovidio. Sono quei temi, ed è un volume dedicato, insomma, ispirato alla poesia ovidiana, sono quei temi sui quali noi ci siamo ripromessi di puntare molto, insomma, di fare un riferimento, ai quali ci siamo ripromessi di fare un riferimento importante. Credo che il cammino che è stato intrapreso è un cammino significativo. Dobbiamo proseguire su questa stanza. iniziativa del Parco Letterario Ovidio Una giornata dedicata al ricordo del professore Emiliano Splendore. Con l'occasione è stato anche presentato il suo libro Giuseppe Capograssi La vita e l'etica La preghiera Padovani Edizioni Preceduto in mattinata dalla trentonesima rassegna dei pittori Perigna, rassegna ideata e condotta per anni di Emiliano. Alla presentazione del libro si è tenuto nell'auditorium del centro pastorale di Ocesano. Presente il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Presente un folto pubblico interessato ed attento. Il segno della stima per il professor Splendore che pur essendo proveniente dalla Calabria sempre conquistare l'attenzione della cittadinanza, la fiducia della cittadinanza grazie alla sua onestà culturale e dal suo impegno a realizzare eventi che dessero lustro alla città definita non a caso città d'arte e cultura. Dicevamo, folto pubblico, mai visto alla presentazione di un libro. Qualificati datori hanno illustrato il senso e il significato del libro. E parlato anche dell'uomo di cultura. Il professor Fabrizio Politi, docente dell'Università dell'Aguia, il professor Eugenio Sodo, docente dell'Università Cattolica del Stato Cuore in Roma, l'avvocato Orlando Schupp, ormai noto storico degli eventi della Seconda Guerra Mondiale, Monsignor Eulo Tarullo della Diocesi di Sulmona Malva. Ha condotto il pomeriggio culturale Giovanni Ruscitti, giornalista. Occorre dire che il libro scritto da Emiliano era rimasto nel cassetto per la scomparsa del suo autore, ma la pubblicazione è venuta grazie all'impegno, alla caparbietà della moglie Franca Di Braccio. Il professor Splendore ha il grande merito di aver contribuito in maniera decisiva alla crescita culturale del nostro territorio. Abbiamo colto l'occasione per ascoltare uno dei relatori, il professor Eugenio Sodo. Il professor Splendore, nella sua opera di raccolta dei dati per la pubblicazione, non è stato subinamente a raccogliere quelle che sono state le indicazioni da parte del Giuseppe Capograssi. In sostanza, lui ci ha messo di suo. Ci ha messo di suo perché ha fatto delle sintesi in maniera veramente originale per quanto concerne in particolare la parte relativa alla morale e alla etica. ovviamente le tre parti che compongono un'intera opera sono pure relative all'anagrafica da parte del Capograssi e alla fine c'è la parte della religione a cui lei si accennava. Io mi sono dedicato in particolare alla seconda parte, cioè alla parte della etica e morale. E devo dire che è stata veramente una ricerca attenda, approfondita di tutti quanti quei temi che Capograssi nella maniera più semplice, più lineare, meno, possiamo chiamare, meno macchinosa possibile, ha fatto e ci tratta di 1951 puglietti, vengono chiamati così, che vengono dedicati alla sua fidanzata di un tempo, in cinque anni di fidanzamento. In questo troviamo nel Capograssi tutta una serie di indicazioni, ma la cosa più importante che Emiliano Splendore ha messo insieme è che da queste 1951 foglietti è venuto fuori qualcosa di più personale. Per esempio, proprio nei temi della etica, lui ha individuato, perché è evidente che parlando con la sua fidanzata, scrivendo alla sua fidanzata, Capograssi non si soffermava a dire sì, voglio questo, voglio quest'altro, mi piace questo, mi piace quest'altro. Lui scriveva liberamente e la cosa che è stata grande da parte di Emiliano Splendore è che lui ha maternizzato le varie parti e i temi della etica in particolare. Lui ha appoggiato il dito esattamente sull'individuo, sulla persona, sull'amicizia, sulla famiglia, sulla parola. Sono tutti quanti temi che non sono spontaneamente trovati nello scritto del Capograssi, ma sono stati da parte di Splendore metabolizzati, messi in evidenza e, ovviamente, discursi e commentati. grazie a tutti.